Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI, per lavori di messa in sicurezza sul viadotto del Turbone, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, ci sono un chilometro di coda in direzione Livorno e un chilometro di coda in direzione Firenze, per altri lavori rallentamenti tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Pruneta in direzione Firenze, per la viabilità cittadina Firenze in via Faenza per lavori fino al 10 aprile di vieto di transito nel tratto tra Via Nazionale e Via Cennini. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!